Stavolta non si può proprio sbagliare. Dopo tre sconfitte di fila, l'Aquila è chiamata domani pomeriggio a fare bottino pieno contro il Savona, in un match che si preannuncia come il primo vero scontro salvezza della stagione. I rosso-blu dovranno fare a meno a centrocampo di De Francesco squalificato, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Anderson al fianco di Maccarrone per rinforzare il pacchetto centrale che dovrà vedersela contro l'ex di turno, l'attaccante Francesco Virdis. La scorsa annata è il rosso-blu, nonostante di lui si ricordi solo lo splendido gol contro l'Ascoli nel mese di gennaio. Curiosità, Virdis ritroverà al fattore il ADS aquilano Alessandro Battisti, con cui giocò a Chieti nel 2005-2006, nel suo primo anno tra i professionisti. Su Virdis e sul suo Savona, le parole del tecnico dell'Aquila Carlo Perrone, a margine della conferenza stampa della vigilia. È un ottimo giocatore Virdis, un giocatore da tenere sotto controllo perché è veramente un grosso realizzatore, ma non c'è solamente lui. Ci sono altri giocatori importanti da cui dovremmo stare attenti. È una partita molto importante perché è uno scontro diretto. Noi non ci nascondiamo, noi dobbiamo cercare di fare punti il prima possibile per allontanare le zone basse della classifica.